Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Mite e Misteri GTA V Caso 22, il tunnel maledetto Il tunnel maledetto, secondo le fonti, le notizie che ho trovato al riguardo Si vocifera che si possono udire dei passi ma anche dei rumori o delle voci Questo è il tunnel in questione Si dice anche che questo tunnel abbia tipo un collegamento esterno Nel senso che non fa parte del collegamento esterno del gioco Ma tipo come se fosse un edificio tipo interno Se mettiamo dentro la moto Se si riesce a mettere nel punto giusto Ok forse Rockstar qua ha fixato bene il bug Proviamo dall'altro lato No, questo lato è impossibile Si mi sa che l'hanno fixato O forse accade nell'altro lato Chissà controlleremo dopo Come notate c'è comunque questa sorta di cambio di luce in questo muro Forse era questo lato sapete No Ok Grazie 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 a tutti Alcuni ipotizzano che queste luci siano una sorta di codice morse, quello di 0 e 1 Però chi ha provato a decifrare questa sorta di codice ha dato un risultato insensato Quindi non è nulla di particolare Grazie a tutti Solo io l'ho notato ma per un attimo è raffasta la mia ombra E qua? Come mai? Sarà un bug forse? Si dice che questa porta conduca da qualche parte però dei mod hanno provato ad attraversare questa porta ma non c'è niente al suo interno Attualmente non sto udendo nessun rumore strano Ci sono delle ventilazioni o sbaglio qua sopra? Sì Sì Ok non sento nessun passo possiamo proseguire Ok non sento nessun rumore strano Anche qui c'è un'altra porta Ok non sento nessun rumore strano 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 Grazie a tutti. 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 Non c'è niente di particolare, sinceramente. Quindi, caso 21, sfatato. Se questo video vi è piaciuto, vi lascia un mi piace. Ci vediamo alla prossima. Ciao.